E' cominciato nel Tribunale di Lecce l'incidente provatorio disposto dal GIP Giovanni Gallo nell'ambito dell'inchiesta su una presunta associazione delinquere finalizzata la corruzione in atti giudiziari che negli anni passati avrebbe operato negli uffici giudiziari di Trani. Un lungo memoriale in cui vengono chiariti alcuni aspetti della vicenda che ha come protagonisti gli ex magistrati di Trani Michele Nardi e Antonio Savasta è stato presentato dall'imprenditore di Corato Flavio Dintrono nel corso dell'incidente provatorio in cui è protagonista nel Tribunale di Lecce. Il GIP Giovanni Gallo ha dato tempo affinché avvocati e indagati prendano visione del documento prima di proseguire l'esame di Dintrono. In aula presenti Antonio Savasta, detenuto e domiciliari da marzo, Michele Nardi e Vincenzo Di Chiaro in carcere dal 14 gennaio, nonché diversi altri indagati. L'incidente provatorio chiesto dal procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris e dalla PM Roberta Licci che hanno coordinato le indagini dei carabinieri proseguirà il 26 e il 28 maggio con l'esame di Dichiaro e di Savasta. In tutto sono 12 le persone indagate per reati che vanno dall'associazione delinquere alla corruzione, falso, abuso d'ufficio, estorsione, minacce. In carcere sono finiti il 14 gennaio l'ex GIP di Trani, Nardi e l'ex PM Savasta e il sovrintendente di polizia Vincenzo Di Chiaro. Secondo la tesi della procura di Lecce, i magistrati Nardi e Savasta, insieme ai colleghi sui quali sono ancora in corso le indagini, avrebbero asservito la funzione giudiziaria a interessi personali, favorendo alcuni imprenditori coinvolti in procedimenti giudiziari dai quali avrebbero ricevuto cospicue tangenti. Il primo a rivelare l'esistenza di un sistema Trani è stato l'imprenditore decorato Flavio Dintrono. Dopo l'arresto, anche Antonio Savasta ha deciso di collaborare con gli inquirenti, ammettendo alcune delle sue responsabilità e rendendo dichiarazioni accusatorie su altri magistrati. È stato proprio Savasta a tirare in ballo l'ex collega Luigi Scime, attualmente in servizio a Salerno, che risulta indagato per corruzione in atti giudiziari.